Una volta mia figlia sentì un odore terribile e disse mamma ma che è successo perché capita abbiamo una vaschetta della Fogna nel garage e credeva che si fosse intassata di nuovo la vaschetta e poi dopo non l'hanno tolta né niente, dice che forse qualcuno che c'è il pozzo. Hanno emanato un'ordinanza e poi dopo non hanno emanato l'altra ordinanza per dire che tutto era tranquillo non hanno fatto sapere più niente. In via Maglio Rossidoria ancora nessuna traccia della revoca dell'ordinanza di divieto di utilizzo dell'acqua per usi potabili e alimentari emanata dal comune lo scorso 7 agosto fino a nuova disposizione di revoca del provvedimento. Il divieto ricordiamo era scattato dopo le segnalazioni pervenute al comune su presunte alterazioni delle caratteristiche organolettiche dell'acqua. Dopo la segnalazione i tecnici dell'alto calore avevano avviato una serie di accertamenti nella zona, nonostante si è trascorso un mese dalla data del divieto, non ci sono aggiornamenti sulla vicenda, nonostante dall'alto calore. In modo informale sottolinea la consigliera comunale Enza Ambrosone che sul caso ha chiesto spiegazioni al sindaco Laura Nargi una interrogazione urgente, quella di Ambrosone, per conoscere i risultati delle indagini e dei provvedimenti adottati o in corso di emanazione gli abitanti di via Maglio Rossidoria, avverte Ambrosone, soffrono ancora di disagi legati al divieto. Abbiamo fatto fare anche delle analisi privatamente e sembra che questa zona alta non sia interessata dal problema che però giù c'è perché dei vicini ci parlano di quest'acqua che si sente anche un cattivo odore, quindi il problema c'è. Probabilmente qui super non siamo tanto coinvolti. L'ordinanza è stata emessa ma non è stata revocata, sappiamo da voci indirette che l'alto calore ha verificato, il problema sembra che non ci sia più. Da parte del comune non c'è stata? Non c'è stata, al momento noi abbiamo l'ordinanza. E voi l'acqua adesso la potete utilizzare? Stiamo comprando l'acqua, però chiaramente tu non riesci a non farne proprio uso, qualcosa devi fare con l'acqua del rubinetto. Però voi chiedete come residenti? Sicuramente chiediamo che si deve sapere, siamo ancora sotto ordinanza, non siamo più sotto ordinanza, possiamo utilizzare o non possiamo utilizzare. Ci siamo fatti le analisi private per una tranquillità personale, ma comunque di ufficiale non abbiamo niente.